benvenuti sul canale cretail il nostro modo di parlare il linguaggio moderno quindi attraverso immagini e video ormai si legge si guarda solo velocemente tutto cercheremo in maniera intensiva ma anche in maniera sintetica di raccontarvi quello che accade nel mondo retail in questo nuovo mondo 4.0 dove l'integrazione digitale con il fisico sarà la vera sfida da approfondire grazie